Alla 54esima edizione della Fiera Amici di Brugge di Rimini, Zermak ha festeggiato con successo i suoi 30 anni di attività, presentando tre nuovi prodotti. Il miscelatore di alginati e gessi Harremix, la linea di resine Protil Evo e la sabbiatrice Dune Ecotech, con le sabbie Z-Sand, abrasivi di qualità nell'innovativo confezionamento in busta a triplo strato monoricarica. Apprezzati per la loro qualità e affidabilità da tutti i nostri clienti, i prodotti presentati sono frutto delle più recenti ricerche scientifiche del gruppo, che da sempre mira all'evoluzione e all'ottimizzazione continua. Il nuovo miscelatore per alginati e gessi Harremix rappresenta un passo avanti in termini di velocità di lavorazione e di accuratezza nella qualità della miscelazione. I 20 diversi programmi del suo software, 10 per alginati e 10 per gessi Zermak, consentono una versatilità eccezionale nell'uso, favorita dalla possibilità di personalizzare il setting time. La nuova microsabbiatrice Dune Ecotech coniuga tecnologia e ricerca ergonomica, garantendo risultati ottimali nella facilità d'uso, nell'efficienza della performance durante la sabbiatura e nel consumo ridotto di sabbia. Massima qualità nella rese e risparmio nel processo di lavoro sono resi possibili dal design dei manipoli e dal sistema di valvole ugelli che calibrano il dosaggio di sabbia. Il sistema integrato si completa con la nuova gamma completa di sabbie Z-Sand, disponibile in diverse granulometrie di microsfere di vetro e ossido di alluminio. La riformulazione della linea di resine acriliche Protil Evo per il laboratorio nasce da un'evoluzione estetica, oltre che funzionale, in grado di assicurare per ogni tipologia di resina molteplici colorazioni e gradi di opacità, con performance di adesione e stabilità garantite nel tempo. I cinque prodotti che compongono la linea risultano innovativi anche per il monomero residuo, decisamente inferiore alla media dei prodotti presenti sul mercato, in particolare per le diverse resine a freddo. A completamento del sistema, Zermac consiglia inoltre l'uso delle polimerizzatrici Protil Polymer e Polymer 180, quest'ultima utilizzata durante la demo in fiera. Assieme ai nuovi prodotti, Zermac ha esposto la propria gamma di alginati e siliconi per lo studio e per il laboratorio, prodotti che hanno fatto dell'azienda italiana un punto di riferimento a livello mondiale. Fiore all'occhiello tra i materiali da impronta è HydroRise, il silicone per addizione iperidrofilo, che assieme al miscelatore automatico Module Mix offre ai professionisti la massima praticità, adattandosi perfettamente ad ogni metodo di lavoro. A Rimini, Zermac ha ripercorso i suoi trent'anni di innovazione e di successi, ribadendo il legame che la unisce ai suoi partner, grazie ad una ricerca sempre all'avanguardia e rivolta al futuro. Oltre ai prodotti, anche il recente restyling del sito www.zermac.com rappresenta un'attenzione costante al lavoro che Zermac condivide con tutti i professionisti del settore.